buongiorno beautiful people in questo canale parliamo spesso di produttività, to do list, ottimizzare il nostro tempo o raggiungere i nostri obiettivi eccetera ma non dobbiamo dimenticarci di riposarci per non bruciare il nostro motore ad ogni periodo di alta intensità diciamo così dovrebbe corrispondere un momento di riposo altrimenti finiremo necessariamente in burnout il video di oggi lo voglio dedicare proprio a questo a quelle piccole pratiche quotidiane che ci permettono di recuperare un po di energie ricaricare le batterie ed evitare di finire completamente spompati in breve periodo il mio primo consiglio è quello di concedervi del tempo di recupero ogni singolo giorno quando ho iniziato a lavorare in azienda lavoravo sempre lavoravo arrivavo in ufficio prima uscivo dall'ufficio dopo durante il weekend molto spesso andavo a lavorare e non me lo chiedeva nessuno era qualcosa che mi sentivo di fare perché volevo migliorare volevo fare di più volevo raggiungere i miei obiettivi e nella mia testa pensavo sempre lavoro adesso mi porto avanti così poi durante le due settimane di ferie estive posso riposarmi il problema è che arrivavo alle ferie estive con la mia mente completamente intasata di di cose da fare di to do list di obiettivi di lavoro e facevo fatica veramente tanta a lasciare andare la mia mente pensava sempre al lavoro che avevo lasciato o a quello che avevo trovato una volta che sarei dovuta tornare in ufficio e non mi riposavo mai quello che faccio adesso è concedermi un po di recupero ogni giorno a volte anche più di una volta al giorno proprio per evitare di non andare mai in riserva di energie cerco sempre di auto ricaricarmi come la mia macchina ibrida il secondo consiglio è quello di trovare due o tre pratiche che ci danno serenità per me per esempio è cambiare le lenzuola del letto e fare una doccia calda quando mi sento stressata tesa con la testa che non riesce a ragionare mi prendo mezz'ora di pausa e mi faccio una bella doccia calda ovviamente io sono avvantaggiata perché lavoro da casa e quindi posso farlo in qualsiasi momento della giornata ma se lavorassi in ufficio probabilmente dedicerei questa pratica a fine giornata la prima cosa che farei quando rientro in casa proprio per creare questo senso di divisione tra la giornata lavorativa e la mia giornata a casa il mio momento di riposo cambiare le lenzuola invece per me è la cosa più bella del mondo se fosse ecologicamente possibile e sostenibile cambiare le lenzuola tutto il giorno perché non c'è niente di meglio che dormire in un letto pulito terzo consiglio investite in 5 minuti di speed cleaning non potete neanche immaginare quante cose riuscite a fare in 5 minuti personalmente sono un po maniacale con la pulizia e lavorare in uno spazio disordinato caotico ma anche sporco ma nel senso di un po di polvere un po di peli del mio cane in giro per il pavimento per me è veramente impossibile la mia mente si distrae troppo facilmente e quindi prima di iniziare a lavorare faccio una passata veloce di aspirapolvere sistema la scrivania se ho qualcosa fuori posto e la stessa cosa faccio durante la giornata se per quello che sto facendo ho dovuto tirare fuori determinate cose che poi dopo non mi servono più non vi sto consigliando di fare una pulizia intensa e profonda del vostro spazio di lavoro ma solamente di riorganizzarlo man mano che che la giornata va avanti in questo modo non vi sentirete mai overwhelmed e non vedrete mai la vostra scrivania il fatto di dover pulire come una un'ulteriore cosa da fare sulla vostra to do list quarto consiglio preparatevi per tempo quando una giornata molto intensa che so di dover passare specialmente molto tempo alla scrivania cerco di prepararmi prima imposto l'ambiente attorno a me in modo che sia il più rilassante possibile accendo una candela metto una playlist di musica rilassante mi faccio una tisana o metto sul diffusore di oli essenziali insomma cerco di creare un ambiente che permetta alla mia mente di rilassarsi di non essere troppo congestionata con le cose da fare allo stesso modo uno dei grossi problemi che mi porta tanta stanchezza è ovviamente la componente fisica perché ricordiamoci che la stanchezza non è solo mentale ma appunto è anche fisica e anche quando si sta solamente alla scrivania lavorare il fisico ne risente perché è un grosso problema che io per esempio è la postura le spalle e il collo a fine giornata sono praticamente una cosa sola un pezzo di marmo quindi quello che cerco di fare ad essere consapevole della mia postura durante il giorno cercare di stare sempre dritta con le spalle indietro ma allo stesso tempo ogni volta che per esempio mi alzo per andare in bagno o andare a bere cerco di stiracchiarmi quindi allungo le braccia le stiracchio tiro su scriacchio la schiena insomma cerco di di fare in modo di non arrivare mai a fine giornata completamente tesa che sembro una strega senza collo il quinto e ultimo consiglio che vi do è quello di concedervi quanto più riposo notturno possiate io cerco di dormire otto ore a notte lo so che sono sembrano tante sembrano delle ore impossibili però ovviamente io sono avvantaggiata perché non ho figli e non ho un lavoro di dipendente quindi mi posso gestire i miei orari da sola però cercate di dormire tutte le ore che avete a disposizione perché veramente il sonno è veramente importante per la nostra salute fisica e mentale e serve è proprio fondamentale al nostro corpo dormire quando non dormiamo incasiniamo tantissime altre cose che hanno a che fare con la nostra salute non va bene ovviamente dormire otto ore se ti devi svegliare presto vuol dire andare a letto con le galline io mi sveglio sulle 5 5 e mezza e quindi vado a letto sulle 9 9 e mezza questo ovviamente comporta dei sacrifici per esempio riguardante la vita sociale però è una scelta in questo momento ho deciso di investire il mio tempo e le mie energie nel mio lavoro e nella mia salute e quindi mi rialzo presto la mattina per andare in palestra e poi lavoro tutto il giorno e la socialità la rilascio la rilego al weekend durante la giornata ovviamente perché anche nel weekend va da letto presto e questo funziona per me però dormire otto ore può anche voler dire svegliarsi alle 7 di mattina e andare a letto alle 11 questo magari può essere un po più fattibile per voi insomma trovate il vostro equilibrio però non tagliate ore di sonno perché sono super importanti vi prego con questo è tutto io spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia dato un po di ispirazione a cercare di inserire all'interno delle vostre giornate dei momenti di relax così da evitare di essere di andare completamente in burnout perché è una qualcosa di poco piacevole insomma non dopo si fa veramente fatica a recuperare quindi mi raccomando prendetevi cura di voi stessi perché se non vi prendete cura di voi stessi il vostro business la vostra famiglia la vostra vita in generale non può esistere non può essere non può essere un'esperienza positiva quindi prima occupatevi di voi stessi e poi pensate tutto il resto io vi do appuntamento a domenica prossima con un altro video a domenica prossima